Credi di sapere cos'è lo yoga facciale? Beh, se pensi che si tratti di smorfie come queste o cose del genere, beh allora ti sbagli di grosso! Lo yoga facciale è una ginnastica specifica per tonificare i muscoli del viso e dare volume ai muscoli del viso, un po' come facciamo quando alleniamo i muscoli del corpo. Quindi consiste in movimenti specifici, mirati e consapevoli nei quali ci sono due forze contrapposte o a pressione, e questo vuol dire che il muscolo è attivo e noi per farlo lavorare di più premiamo con la mano oppure con le dita insomma questi sono i nostri pesetti oppure a trazione, quindi i muscoli vengono spinti in lati opposti e in questo modo si tonificano. Adesso lo sai anche tu!